Sotto ad uno degli ultimi video a tema Bologna un utente mi ha scritto non capisco il concetto dell'aggredire il mercato perché io più volte ho criticato, diciamo così, adoro il mercato del Bologna perché ho più volte detto non gli ho visti aggredire il mercato per sostituire calafiori o comunque i pezzi pregiati ecco, il concetto di aggredire il mercato è esattamente quello che sta impiegando l'Atalanta l'Atalanta è una delle squadre che ha aggredito il mercato in questi ultimi giorni in un modo clamoroso si infortunina Scamacca, il giorno dopo, pam, ha preso le teghi ora, hanno fatto questa pantomima per il discorso di Copminer sono arrivati ferricorti, il giocatore non si allenava con la squadra poi si è parato un attimo di riintegro e quindi cosa ha fatto l'Atalanta? dopo mesi e mesi che Samarzic è stato vicino all'Udinese poi si è parto di Juventus, poi di Milan e dopo che il padre ha fatto i casini neri che è successo? arriva l'Atalanta Udinese quanto vuoi? sono ancora 20 milioni più 5 milioni di bonus aggiungibili? sì, facilmente aggiungibili, sì pam, e ha preso Samarzic uno dei giocatori più difficili da prendere a livello, insomma, di staff di questi ultimi anni di mercato questo è il concetto di aggredire il mercato ti serve? ragazzi, se puoi, vai e fai non voglio concentrare ovviamente questo video sul discorso Bologna perché Samarzic ce l'ha preso l'Atalanta però è per farvi capire il concetto di aggredire il mercato immaginate come state in un negozio vi servono un paio di scarpe e a voi servono, che ne so, le Converse andate vedete il modello di Converse vi piacciono pam, e paghi tempo? 15 minuti, 20 minuti se invece vai lì con le delle Converse però poi dici eh, però ci sono queste sneaker che mi piacciono eh no, poi ci sono questi stivaletti che mi piacciono è normale che poi ci metti 10 ore prima di scegliere un paio di scarpe ragazzi, decisi ti serve col profilo pam, veni Atalanta 20 più 5 e mi prendo Samarzic in 4 e 4 8 quanto meno sulla carta poi giustamente è un profilo che è conosciuto a tutti sicuramente Atalanta l'avrà valutato molto Samarzic prima dell'acquisto ma adesso entriamo in pieno in orbita Atalanta e secondo me è un grandissimo acquisto un grandissimo acquisto perché in primis permette eh di sbloccare probabilmente molto probabilmente l'affare con Maenas con la Juventus non a cuore leggero perché c'è la Juventus è sempre un patema d'animo per tutti però si può sbloccare questa cosa dopo che l'Atalanta per settimane è stata su O'Reilly ma il club di appartenenza non il Celtic non voleva cedere e qui insomma Atalanta si è stufata è andata a spendere di meno perché mi pare che avesse offerto 27 milioni di euro per O'Reilly al Celtic ma dopo hanno risposta sono andati appunto dalla Ludinese e hanno fatto secondo me una mossa intelligentissima per un giocatore giovane dutte tatticamente che conosce il calcio italiano e comunque a un prezzo inferiore perché ripeto 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus facilmente aggiungibili è veramente un'ottima cifra per Samargic semplicemente hanno fatto valere hanno approfittato della situazione ormai di stallo anche per Samargic per il discorso che prima appunto dovesse andare all'Inter la scorsa nell'estate 2023 poi tutto è stato bloccato affare saltato all'ultimo per il discorso delle provvigioni del Pala se non ricordo male che aveva alzato la richiesta di provvigioni i vari casini con gli agenti e ora l'Atalanta che se ne farà di Samargic e se ne farà tanto per comunque avere un attacco con dietro un Pasaric Samargic o Samargic con con Lukman o Samargic con De Keteler tanta roba ho detto De Keteler ma poi dobbiamo sempre vedere dove verrà impiegato perché stanno cercando una sorta di quadra con lo Stoccarda per per il Bilal Touré e quindi lì magari poi con Scamacca fuori ti rimane soltanto Reteghi e vai in corto ma un un attacco che magari vede Reteghi come centroavanti e dietro Samargic e Lukman ragazzi tanta roba e io ve lo metto lì Samargic per un semplice motivo perché lui magari ha giocato come mezzala all'Udinese ma l'Atalanta non contempla le mezzali e mi viene veramente assurdo pensare che un Atalanta ti vada a mettere Samargic come centrocampista centrale cioè neanche nel metaverso più visionario e quindi lui magari occuperà quella posizione di di trequartista interno sul largo a destra che lui comunque gioca molto bene col sinistro e quindi magari ha più invertito quella secondo me è la posizione di Samargic e secondo me l'Atalanta ha fatto veramente un grandissimo acquisto con questo ragazzo perché ripeto merita e l'Atalanta sarebbe un ottimo step up per lui perché insomma l'Udinese già nello scorso secondo me avrebbe potuto fare lo step up però probabilmente non è andata come doveva perché magari gli serviva al ragazzo un piccolo bagno di umiltà perché comunque diciamo aveva secondo me voluto e cercato un po' troppo da quella sessione che doveva andare all'Inter e qui insomma il il fatto diciamo così l'ha messo davanti a questa a questa problematica e detto my friend fate un bel bagno di umiltà e poi insomma non si è più mosso dopo appunto gli interessamenti di Milano Juventus e quindi adesso è giunto il tempo per lui di fare questo step up e contando che un 2002 l'Atalanta lo aiuterà molto molto e lui aiuterà molto l'Atalanta secondo me potenzialmente il miglior sostituto di Copminers diciamo sempre che Copminers parta diciamo che il blocco con la Juventus era appunto il trovare il sostituto di Copminers una volta trovato forse la squadra sarebbe un po' morbidita staremo a vedere però ecco che adesso vedo con con Samo in Gici l'Atalanta appunto il il serbo è quello che maggiormente può stituire Copminers senza un po' di dubbio magari è diverso ovviamente come giocatore magari è meno centrocampista ha una visione di gioco diversa forse con Miners un po' più box to box anzi sicuramente Samasic non c'ha molto la fase difensiva però ragazzi grandissimo colpo l'Atalanta in questi ultimi giorni di mercato ha mollato boom 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 e non solo perché sta chiudendo anche Wesley col Flamengo e riguardo questo giocatore fare un video a parte però ripeto voto assolutamente voto massimo all'Atalanta per questi colpi veramente grande e ripeto caro utente del Bologna questo significa aggredire in mercato individui punti vai e prendi capendo la giusta situazione non è che vai lì in un secondo e mezzo compri ci sa magari un minimo di negoziazione o in questo caso individui l'obiettivo facilissimo da raggiungere perché Samasic era da tempo appunto che doveva smammare Daudine vedi sempre quello atah sempre quello caro bim questo giocatore chapeau ad amico fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti